Vi farò vedere alcuni strumenti gratuiti, di fatto, senza avere la necessità di acquistare un tool online, ad esempio. Ci sono ovviamente dei tool che sono gratis e che poi possono essere upgradati pagando ovviamente la versione a pagamento, quello sì, ma ciò non toglie il fatto che vi dia l'opportunità di utilizzarli gratuitamente. Quindi, ricerca delle giuste keyword su cui fare focus, key phrase e long tail, ovviamente per coltivare il campo semantico dell'argomento di nicchia che ho scelto. Ok? Ovviamente mi ripresento, sono Giannira Sul Digital Marketing Specialist in Digital Coach, coach della work experience in diverse aree, sono partito da SEO, content, analytics, ormai sono un supervisor dell'intera work experience e ovviamente lavoro in Digital Coach come parte integrante dell'attività di visibilità del brand online, in particolare per la lead generation. Ok? A 360, quindi organico, campagne su Facebook, sui social, rete display e quant'altro. C'è il link poi sul mio profilo. Ciò che andremo a vedere, ovviamente partiamo da quello che potrebbe essere un tool che in realtà nessuno si aspetta realmente che possa essere utilizzato come tool. Ok? Che è lo stesso Google. Esempio pratico che potete ovviamente fare insieme a me anche per capire quali differenze ci sono tra voi, il vostro computer, dove siete, che state effettuando la vostra ricerca, rispetto a dove sono io, ad esempio. Partiamo con, ok, nella mia lezione io faccio vedere come poter strutturare un articolo con i vari adding one, two, three, poi tutto quello che abbia a che fare con i fattori SEO, di fatto, on-site, per strutturare correttamente un testo, coltivare il proprio campo semantico e cercare, ricercare delle correlate. Alla parola chiave, topic di riferimento dell'articolo che voglio scrivere e pubblicare. Esempio, individuo, faccio il mio bloghettino che chiamo, in questo caso l'ho chiamato Giardini Express, devo capire che tipo di pubblico intercettare, scrivo degli articoli, perché voglio poi proporre un mio servizio di piantagione per piantare e curare il giardino, oppure per potare le piante in giardino, o voglio vendere dei tavoli per esterni o delle piastrelle, posso erogare qualunque tipo di servizio, devo comunque intercettare un certo pubblico. E quindi scrivo, ad esempio, come coltivare l'erba del giardino. Così com'è, individuo, vado su Google, anche scrivendo sulla barra di ricerca di un qualunque browser, che sia Firefox o Chrome, assicuratevi di essere su Google dopo che effettuate la ricerca, perché ad esempio se lo effettuate da Microsoft Edge, molto probabilmente vi darà Bing, ok? Possono esserci delle differenze. Esempio, come vedete io scrivo come coltivare l'erba del giardino, ok? Io adesso non ho idea se è una parola che viene ricercata, se ha del volume mensile, intanto io scrivo questo per capire innanzitutto quanti risultati ci sono mediamente, quindi come vediamo così com'è, l'abbiamo scritto e sono circa 324.000 risultati. Considerando che ogni pagina di Google sono 10 risultati, ok? Immaginate quante pagine sarebbero da andare a studiare. Ovviamente no, ci limitiamo già alle prime 10. E ci andiamo anche a vedere, secondo Google, quali sono le migliori pagine e risultati che mostra in alto, perché sono classificate. Quindi in questo caso lui mi mostra prima dei video, perché intercetta il mio intento come se fosse io alla ricerca di un tutorial, probabilmente, ok? E quindi infatti mi dà dei video esplicativi che appartengono all'area how to, ok? Cioè come fare qualcosa. Dopodiché mi dice, ok, le persone hanno chiesto anche, c'è un altro boxettino che mi propone delle domande alternative e correlate a ciò che io ho scritto. Potete anche verificarlo, ad esempio, nel vostro browser. Come e quando seminare l'erba, come si prepara il terreno per il prato, come si fa a piantare un semino d'erba, eccetera. E poi vedo il primo, il secondo, il terzo risultato. Un po' per studiare anche chi potrebbe essere il mio concorrente medio e come scrive lo snippet con il title SEO, quindi il title principale dell'articolo della pagina, la descrizione ed eventualmente se ci sono dei site link che portano ad altre pagine all'interno di quel sito. Come vedete, come coltivare l'erba? Io vedo già consigli e tecniche per coltivare, come seminare il prato, come seminare l'erba, come piantare il seme d'erba, eccetera. Come avere un prato verde. Non è fortemente pertinente ciò che io sto leggendo, no? Perché magari, probabilmente, Google non riesce a trovare una pertinenza a 100% compatibile con la mia ricerca, però cerca di trovare il meglio che esiste nel proprio indice. Come spiego di solito, è un po' come andare in biblioteca e effettuare una ricerca dal biblioteco.